Aaaaaah Oggi alle ore 18 uscirà ufficialmente la nuova release di Level Up Tra l'altro ragazzi oggi promozione pazzesca Promo 3x2 quindi con il codice sconto EZ2 Cioè aprite bene l'orecchio Con il codice sconto EZ2 comprate 3 e pagate semplicemente 2 Vi faccio vedere i nuovi gusti Ma non riesco a romperlo Porca minestra Aaaaaah Ma c'è sempre stato il Welcome Level Up qui? Ma guarda che bello, c'hanno tutti i gusti Ma hanno cambiato tutto e hanno cambiato La nuova release di Level Up disponibile da oggi alle ore 18 Hanno rimesso lo stock di Shiny Dragon E se vi ricordate era già uscito E eccolo qui la chicca, il nuovo gusto La Neon Edition Regà naturalmente codice sconto EZ2 Se volete usufruirne Io direi di provare il nuovo gusto Neon Edition Quindi lo apriamo Ok Buono Oddio Ma che azzurro il gusto Naturalmente per fare il nostro drinchello Ci muniamo di un bello shaker Le dosi come sempre regà sono un misurino Un bel misurino di Level Up Lo mettiamo dentro Dopodiché mezzo litro d'acqua Pronto per essere shakerato Mezzo litro d'acqua E siamo pronti per shakerare il nostro Level Up Shakeriamo il nostro Level Up Mi raccomando Codice sconto EZ2 Ricordatevi di mettere il 2 Che è importantissimo Per la promo 3x2 Comprate 3 e pagate semplicemente 2 Il che vuol dire che uno ve lo regalano Il nuovo gustino Fammelo sentire Mamma mia è dolce È dolce Regà La release esce oggi alle ore 18 Cioè tra 20 minuti Se comprate qualcosa taggatemi su Instagram È arrivato il momento di farvi il discorso Il discorso Spero di non piangere Spero di non piangere perché è un discorso che ho È un argomento che ho molto a cuore E ho sempre cercato comunque di non farmi mai vedere In una brutta veste di fronte alle telecamere Ho sempre cercato di dare serenità E di regalare felicità E di regalare risate Allora come sapete io purtroppo sono stato assente una settimana Una settimana da tutto e da tutti Ed è una cosa che tendenzialmente non sono solito fare L'ho dovuto fare perché La necessità mi ha chiesto di farlo Come sapete da diverse settimane a questa parte Sto combattendo contro una malattia abbastanza grande Che fortunatamente non è una malattia che ho io sulla mia pelle Ma è una malattia che ha riscontrato da diverse settimane appunto a questa parte Il mio animale È una figura alla quale sono fortemente attaccato Perché è difficile da spiegare Ce l'ho con me da 16 anni Io ho calcolato che io ho 25 anni E ce l'ho da 16 anni Quindi ho fatto un po' i conti Ha vissuto sempre con me È sempre stato con me Quindi è un po' come se fosse una sorta di fratello È una figura comunque importante È sempre stata una figura importante per me Che c'è sempre stata Questo sarà un discorso, un argomento Che magari non capiranno tutti Ma che sicuramente chi vive con un animale Sa quanto il rapporto che si va ad instaurare Durerà poi per il resto della propria vita Purtroppo però come noi Come tutti gli esseri viventi Non si è mortali E quindi vuoi o non vuoi Quel giorno arriverà sempre purtroppo Quel giorno dove ci si dovrà separare Da quella figura Da quell'essere vivente Da quell'animale Se vogliamo definirla Quattro zampe Che ha vissuto gran parte della propria vita con noi E quindi non è stato per me Un periodo molto Solare Rosio Mettiamolo così È stato molto difficile La cosa più brutta Oggettivamente È quando sei impotente Quando nel senso Non c'è Quando tu non puoi far nulla Non c'è spesa che tu possa fare Non c'è aiuto che tu possa dare Devi semplicemente aspettare Che si spenga completamente Lentamente Da solo E per quanto uno poi si possa Si possa preparare psicologicamente Diciamo che salutare Salutare il proprio animale In questo caso Il mio che è stato con me per 16 anni Non è mai semplice Non importa magari Se nell'ultimo periodo ha sofferto Se è stato male Perché comunque Non si può più aiutare Non lo si può aiutare Non ci sono alternative Personalmente Per me è stata una perdita È stato un colpo grosso Perché dall'oggi a domani C'è stato un cambiamento radicale Dallo stare bene Allo stare completamente male Quindi tutti quelli Che hanno sofferto La perdita di un animale Sanno quanto Magari possa essere dolorosa La perdita di Di un cane Di un gatto Di qualsiasi altro animale A cui si era affezionati L'unica cosa che mi solleva E che mi fa strappare un sorriso E che sicuramente So che ora Che ora Diciamo che non è ancora Non c'è ancora salutato Ma È questione di poco Con la consapevolezza E la speranza Che possa andare in un posto Dove Potrei essere più sereno Più tranquillo Dove non ci sarà dolore Dove non soffrirà E quindi io questa settimana Che non l'ho passata Di fronte alla telecamera L'ho dovuta passare Di fronte a visite Spese Esami Ho speso tanto Io Guarda Veramente Ve lo dico con il cuore in mano La cosa più brutta Perché comunque Ogni esperienza Ti lascia qualcosa La cosa brutta di questa esperienza Che mi ha lasciato dentro È che mi porta a pensare Che nel 2021 Avere degli animali Sia un lusso Per persone con i soldi Cioè nel senso Aiutare un essere Un essere vivente Che ne ha bisogno È un lusso Non per tutti Gli esami Hanno dei costi Folli Ma veramente folli Ragazzi Però la mia reazione è stata Io la spesa economica La posso anche fare Mi garantisci che Se spendo tutti questi soldi L'animale potrà tornare Ad uno stato di salute Ottimale No Allora che mi fai spendere a fare La cosa che più mi ha fatto rabbia Di tutto questo È che i veterinari Ci sono naturalmente Quelli bravissimi E quelli che purtroppo Anche no Io l'ho fatto vedere A più veterinari Perché non voglio mai Ascoltare sempre Solo una campana Perché non sapevo Da chi io stessi portando Effettivamente il mio animale Quindi non sapevo Quanto potesse essere Più o meno competente Quella figura In questo caso Quel veterinario L'ho fatto vedere Da diverse persone La cosa che più mi ha fatto rabbia È che i veterinari Per quanto io capisca Che sia il loro lavoro E ci mancherebbe Ma di fronte a determinate cose Di fronte a determinati momenti Contesti Quando un animale Un inserviente Sta soffrendo Non mi deve Non mi deve incentivare Non mi deve invogliare A fare delle Delle Degli esami Solo per lucrarci sopra Capite cosa vi voglio dire Un veterinario Un bravo veterinario Se vede che la situazione è critica Non mi deve invogliare A fare degli esami Che non servono a un c***o Che non servono a un c***o Perché se gli esami servono E aiutano l'animale A tornare in forma È un conto Se gli esami Non servono Perché la situazione Ormai è troppo critica Ma ti incentivano A farlo solo Per avere un lucro A quel punto Mi si chiude la vena Anche perché Torniamo a ripetere Che si tratta di cifre Alte Altissime Io non avrei mai pensato Mai pensato Di vedere delle cifre Così alte Per dei Dei raggi Dei esami Degli aggiatamenti Su dei gatti Cani O chi più ne ha più ne metta Paradossalmente Costano forse più degli esseri umani È una roba impressionante E quindi Mi sono dovuto prendere il mio tempo In questo In tutta questa storia In tutta questa faccenda Nella quale Credetemi Ho combattuto come non mai Io e la mia famiglia Abbiamo provato a far tutto il possibile Io Dal mio canto Nell'atto economico Ho cercato di Di andare anche oltre Ma poi mi sono reso conto Che era più uno scippo Quello che mi stavano facendo Piuttosto che Un aiuto Al mio animale Mi sono dovuto fermare Fermandomi Non dico Che abbiamo rinunciato Ma È tosta È difficile E quindi Adesso Lui è ancora qui con noi È come se fosse però In uno stato vegetale Cioè nel senso che è vigile Ma non Purtroppo non è più in grado Di far nulla È praticamente paralizzato Non mangia più Praticamente È dimagrito tantissimo È una situazione bruttissima Che non augura nessuno Di vedere con i propri occhi Perché non c'è cosa più brutta Di vedere una persona O magari una figura Come può essere in questo caso Al mio animale Chiamate Alla quale siete attaccati Spengarsi lentamente E voi siete impotenti Se c'è una cosa Che mi fa incazzare È essere impotente Cioè non poter far nulla Mi fa sentire una nullità Combatterò fino alla fine Tutti i giorni Per far sì che non soffra In più In tutta questa faccenda Molto triste Molto delicata Che non voglio straparare Che mi annulla nessuno Vi sto semplicemente spiegando Il perché Io mi sia allontanato Per una settimana Da tutto In questa situazione Cos'è successo? Mi sono ammalato Io non ho mai avuto Un mal di gola così forte Come l'ho avuto In questa settimana Regà Ogni volta che deglutivo Un c***o di briciolo di saliva Avevo una lama qua nel collo Sapete che quando uno ha mal di gola Magari va davanti allo specchio Apre la bocca Che sembra che faccia cose sconce Per guardarsi la gola Io mi sono completamente ficato Il mio iPhone Dentro alla gola Con il flash Mi sono praticamente guardato Da solo le tonsille Regà erano viola Io sono sempre contro Un po' a tutti I farmaci cazzate Perché comunque Il farmaco si ti aiuta Da una parte Ma comunque dall'altra Non è che faccia benissimo Io in primis Mi sono preso Ho detto Mi dovete dare un antibiotico Perché non ce la facevo Ho un mal di gola Così ve lo giuro Dopo fortunatamente Oggi sto meglio Sono tornato a essere in salute Posso tornare a urlare E quindi è stata Una settimana Le ho vissute tutte È stata molto difficile O mio nonno mi disse Un gran marinaio Si vede nella tempesta Speriamo di aver risposto bene In questo periodo Burrascoso barra difficile Però l'unica cosa Ecco un invito Che vi posso dare Io purtroppo Sapevo che sarebbe arrivato Questo giorno Perché il mio gatto C'ha 16 anni Non è che è una 2 Quindi nel senso Ormai ha fatto il suo percorso Ha fatto il suo ciclo Ha vissuto da re Perché l'abbiamo trattato benissimo E quindi sto cercando Di stare il più vicino possibile Per farvi capire Ora purtroppo È tutto uno sbrodolone Cioè puzza tutto di pipì Perché regà Cioè al pannolone Il mio gatto C'ha il pannolone Perché purtroppo Essendo praticamente Ormai paralizzato Si pisce addosso C'è un odore di pisce incredibile Cazzo Quindi sto cercando Di stare il più vicino possibile Perché in questi momenti Sono ancora più Teneri Se vogliamo Brutto È stato un brutto colpo Inaspettato no Però non previsto Nel senso che Ieri Cioè fino a ieri Per dire Una metafora Stava bene Oggi È cambiato È incredibile Come dall'oggi al domani Si possono capottare le situazioni Comunque questo è stato un po' Il contesto Io lo so che su Instagram Ho messo una storia Dove dicevo Dissing C'è il dissing Mi piacciono i dissing Allora ho detto Mettiamo un po' di pepe sul fuoco In realtà non c'è nessun dissing Ho fatto semplicemente Il c***o Sapete che io sdrammatizzo Cerco sempre di sdrammatizzare Quindi non sono riuscito A lavorare La settimana che è passata Un po' Per la situazione del gatto Un po' Per proprio Impossibilità Con la gola Vi giuro Ho dovuto Ah raga vi devo dire anche questa Tra l'altro Quella settimana lì Avevo pure il dentista Oh raga Dal dentista A un certo punto Perché se tu hai la tosse Con il dentista Cioè se ti mettono le robe in bocca Se ti parte il colpo di tosse Raga gli pianti un silacco qua Nell'occhio Che poi in tempo Covid Mica Covid Mai di mar Il mondo Esce il mondo Allora io ho detto Io mi faccio curare Però sono appena guarito Ma la tosse comunque Cioè anche se sono guarito Con il mal di gola La tosse mi rimane Ho detto Io ci provo Però se poi mi scappa la tosse Io vi faccio un cenno Però raga Quando mi hanno messo le robe in bocca A un certo punto Mi è venuto qua Sai quando ti sta per venire la tosse Che proprio te la senti qua Che dici Oh Per trattenermela Per non tirargli lo sputo Della saliva Nell'occhio Raga Avevo le lacrime agli occhi Agli occhi Ho resistito dieci minuti Con loro che mi scavavano Con respiratori Mamma mia La sofferenza è messa Ah ho finito Ho piantato una tosse Talmente forte Che mi sono grattato Anche il buco del culo Comunque è stata una settimana Dove sicuramente L'esperienza non mi è mancata È stata un'esperienza È stato un bagaglio Comunque Oh basta Momento lacrime Basta che poi dopo Qua diventano occhi lucidi Non va bene Nel Gucci Whale Nel bin Nel random Nell'underground Non va bene Basta Comunque Io direi di avervi Io spero Ecco Di essermi spiegato bene Spero Sicuramente non l'avrò fatto Nel migliore dei modi Ed è impossibile Spiegarvi a parole Realmente quello che ho provato Per questo gatto È lo stesso Che mi fece scoprire I ladri in casa Che entrarono Non me lo dimenticherò mai Quel giorno lì Se non ci fosse stato lui Ciao Ciao Ne porca duro Adesso Dopo che vi ho Trappato le lacrime No spero di non aver fatto piaggiare Niente nessuno È il momento però di andare a figa Che mi piace molto a me